Albano Carrisi shock Albano Carrisi shock, è tutta colpa di Romina Power se io e lei ci siamo lasciati perché Albano Carrisi considerato un pericolo dallUcraina . Come tutti ben sanno, Albano Carrisi è considerato il nuovo James Bond, almeno per lUcraina. Ebbene sì, è costata cara la stima dimostrata del cantautore di Cellino San Marco nei confronti del presidente della Russia Vladimir Putin. LUcraina, infatti, in lotta da diversi anni con il popolo russo per il predominio sulla regione del Donbass, ha aggiunto il nome dellex marito di Romina Power in una blacklist di personaggi sgraditi perché considerati una vera e propria minaccia per la sicurezza nazionale. Naturalmente questa decisione ha spiacciato il diretto interessato, ma anche tutto il popolo italiano. . Stessa sorte ha avuto il suo caro amico e collega Toto Cutugno. . Ospite la settimana al live non è ladurso, il cantautore Salentino ha mostrato tutta la sua disapprovazione per quanto accaduto affermando che sembra una barzelletta. . Albano e le clamorose confessioni su Romina Power. . Nel corso di una recente intervista Albano Carrisi non ha parlato solo della vicenda dellUcraina, ma è tornato a parlare della sua reunion con Romina Power. . Infatti la storica coppia si è unita artisticamente proprio in Russia. . Un evento che ha reso felici i suoi figli, ma anche lanziana madre Yolanda che addirittura è volata fino allex Unione Sovietica per vedere il figlio e lex nuora insieme. . A organizzare tutto è stato Andrei Agapov. . Il suo braccio destro. . È lui che ha avuto lidea di chiamare anche Romina, lo gli avevo detto che lei non avrebbe accettato. . E invece ha detto di sì. . Ammetto che è stata una sorpresa. . È sempre imprevedibile. . Ha dichiarato il maestro. . Poi questultimo ha fatto delle dichiarazioni clamorose sullex moglie affermando che ha fatto tutto la cantante americana. . Fesse stato per lui non si sarebbero mai separati. . È lei che ha portato il germe della separazione nella famiglia Carrisi. . . Prima di allora nella mia famiglia non si sapeva cosa significasse la parola divorzio. . È lì che si è uscita lamericana che è in lei. . . . . Ha concluso il Carrisi. . 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 A presto.